Volevamo fare la reclama al nostro ultimo film, Amore mio aiutami, è una cosa mamma mia che mi ha fatto faticare, dormivo la notte, mi svegliavo con degli incubi, credevo veramente di essere sposato, ma che sei matto con me? E invece no, 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 ho quasi 90 anni e sono ancora signorino io! Ma neanche con una moglie come Monica Vitti? Neanche con una moglie come Monica Vitti? Quanto c'hai di dote, Monica? Certo che se squagliamo con tutte e due i David, le faccio un anello che non finisce mai!